Era stato proprio lui, il suo tuttofare, Salvatore Spina, a trovare senza vita Diva Borin, 86 anni, sulla poltrona nel salotto nel suo appartamento di via Ballini, a Uragomella, in provincia di Brescia, senza vita il 2 marzo del 2019. Per il sostituto procuratore di Brescia, Antonio Bassolino, quanto riferito dal 39enne sposato e residente a Travagliato, sarebbe una messa in scena, secondo il PM, come riporta la stampa, mentre si trovava a casa di Diva la sera del 1 marzo, Spina l'avrebbe soffocata con un'azione combinata, afferrandola da dietro. Prima le avrebbe occluso le vie respiratorie e poi l'avrebbe strangolata utilizzando un foulard della stessa donna, con una pressione così elevata da causarle la rottura dell'arrachide cervicale. Inoltre, la sua azione sarebbe stata premeditata, non solo perché aveva atteso il momento propizio, essendo a conoscenza delle abitudini della vittima, ma aveva maturato da tempo il proposito omicida. Con la morte della signora Borin, infatti, Spina avrebbe definitivamente conseguito quanto disposto in suo favore nel testamento, ossia metà dell'immobile in cui viveva e 60.000 euro in denaro. In questo modo avrebbe scongiurato il rischio concreto che, come già successo per due volte in passato, la donna cambiasse idea e agisse in modo diverso, magari modificando le sue disposizioni a favore di una badante che nelle ultime settimane di vita si era presa cura di lei in modo costante assiduo, a differenza di Spina e della moglie, i quali invece non erano più in grado da qualche tempo di garantire all'anziana l'assistenza che desiderava. Ora, a indagini chiuse, l'accusa pensa che l'uomo sia stato l'ultimo a vedere la donna in vita e anche il primo a trovarla senza vita. Per questo è accusato di omicidio aggravato da motivi abietti, per aver approfittato della fragilità della donna e anche di premeditazione, oltre che di frode processuale, per aver spostato il corpo dopo il delitto e per aver fatto sparire il cellulare che la donna aveva sempre a portata di mano. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!